Ciao ragazzi, che blast è il decimo episodio, nonché decima video recensione su Acto Reality Isola 2023, Il Ritorno. Doppia cifra di episodi, me ne mancano tre oltre questo, a cui potrò non arrivo zi, il mio mitico, leggendario, concorrente, che comunque si fece notare sempre nei nove episodi precedenti. Non so quale sarà il mio commento finale sulla serie in questione, perché deve ancora terminare, ma sicuramente ad oggi l'unico personaggio che davvero è stato qualcosa di epico, vedere, sentire, ascoltare o anche solo capire, per quel che è stato possibile, è stato zi, assolutamente. E indovinate come si apre l'episodio per la quarta, quinta, forse anche sesta volta, cui Priglia e Millie si allenano. A me la coppia stufato, ma non nel senso di lei e l'altra, ma perché è una coppia chiusa. A me a Tutoriality piaceva anche per un elemento, ovvero quello di relazioni interpersonali e non soltanto con lo stesso personaggio. Invece Priglia è sempre con Millie e viceversa. La cosa che poi critico della coppia non è solo Millie, che agli occhi di tutti, secondo me, risulta una spigna nel fianco, ed è la verità di Priglia, ma è anche Priglia che obbliga, forza, quasi senza la volontà altrui, Millie all'allenamento. È chiaro che Millie vorrebbe allenarsi, ma immaginatevi nei suoi panni, il fatto di avere un'amica nuova, forse la prima grande amica nel giro di qualche giorno di reality, e comunque sentirsi obbligata o forzata per amicizia, per non deluderla, a fare qualcosa che tu non faresti mai, ovvero allenarti in questo modo così esagerato. Millie evidentemente non si è mai così tanto allenata, seppur magari vorrebbe mettersi in linea, o anche soltanto diventare più abile e agile. Quindi io do la colpa a entrambi. Ovviamente tra le due c'è Lemie e Priglia, perché è un personaggio che io ritengo evoluto, che ha una storia, è l'unico ad oggi che mi viene in mente, che ha motivo di vincere. Tutti gli altri vogliono vincere per popolarità, per fama, per soldi. Lei invece sì, anche per quello, ma più che altro per iscriversi a Medicina. Quindi per me è quasi scritto che vinca lei, io non lo so, perché spoiler per fortuna non me ne sono fatti, ma ad oggi si ha quell'impressione. Sicuramente finché avrà Millie in mezzo alle balle non potrà emergere del tutto, ma nel momento in cui Millie uscirà, e spero possa farlo presto, Priglia sarà finalmente libera di un peso, anche se per lei è un'amica. Tra l'altro in tutto ciò Millie è bastarda, perché non lo fa a posto, secondo me non lo fa con malizia, nel suo carattere essere piuttosto approfittatrice, ma ripeto, non con cattiveria. E quindi nel suo zaino Millie aveva le borracce, non solo sue, ma anche quella di Priglia, e tutta lei le ha bevute. Quindi Priglia è assetata, arrivando alla cima della montagna. Mentre Priglia per allenamento si porta dei sassi. Questa è follia, ovviamente non è colpa di Millie che lei abbia i sassi, ma fa capire quanto Priglia fosse stanca. E in tutto ciò Millie si permette di accettare un aiuto da Priglia, e questo è quello che sbaglia lei, sbaglia Millie. Perché Priglia è troppo buona, Priglia non direbbe mai no alla sua amica, ma Millie dice troppe volte sì, al contrario di Priglia. Quindi il problema è questo, di questa relazione, che Millie se ne approfitta, secondo me senza cattiveria, perché sa di poter contare su Priglia, ma arriverà un bel momento, chissà che non sia questo episodio, ne parleremo, in cui Priglia la manderà a fare il culo. Ma è un andare a fare il culo educativo, ecco, come quando Ripper ricevette il pugno o il calcio, da non ricordo chi da Axel, forse o comunque da un altro personaggio, cui effettivamente ha avuto senso in quel momento che gli venisse dato. La sfida parte in maniera un po' lenta, perché effettivamente è semplicemente, tra virgolette, stare su un palo, in modo da non cadere il più tempo possibile. L'ultimo che rimane in piedi sul palo, o comunque accovacciato che non cade in acqua, vincerà la sfida e quindi l'immunità. Dicevo, parte lentamente, perché poteva sembrare una sfida veramente ripetuta e ripetitiva, già si è vista più volte, e tra l'altro le relazioni sono sempre queste, ovvero Emma che è infastidita da Chase, oggi più noioso del solito. Ho trovato oggi Chase veramente un personaggio, anzi un ragazzo, assillante all'estrema potenza. Ho tenuto conto che Chase e Emma sono dalla parte opposta l'una all'altra e io mi immagino anche soltanto Millie, Priglia, Giulia e Bowie a sentire questi due idioti, in particolare lui, ma non è che lei scherzi, vi dirò anche il perché di qua a fine episodio, a sentirseli continuamente urlare da parte a parte, perché di fatto ci sono quattro personaggi in mezzo, quattro concorrenti. È stato veramente pesante, ormai il mio è un odio, è voluto che sia così, è il personaggio essere odioso, ma mi permetto di dire che comunque odio il personaggio stesso. Per quanto sia voluto che sia così, io non posso odiarlo. Non è un odio cui magari puoi avere verso Giulia, da antagonista, ma è un odio nel carattere pesantissimo, superficiale, iperinfantile, ma non che, ripeto, Emma sia meglio, e vi dirò il perché. In tutto ciò, Chris cerca di viziarli, come? Cercando di dissuaderli, di far cambiare idea a loro che stanno sul palo, facendoli cadere, con certi alimenti di gusto sicuramente interessante, come questa immensa colazione, che tra l'altro, piccolo dettaglio, questo Chris lo dice all'inizio, i ragazzi colazione non l'hanno fatta, e tra l'altro, Priya e Millie si sono allenati poco fa, solo che Millie, un minimo di allenamento, si lo risente, ma non è così affaticata quanto Priya, che tra l'altro manco ha bevuto. Quindi in questo momento, Priya non poteva desiderare una sfida peggiore, ma comunque un po' tutti sono molto provati, anche solo a sentire questo langurino, questo piccolo odore, nauseante quasi, però veramente carino da sentire, per lo meno. Chris li tenta, ma poi lancerà il piatto nel mare, questo indicare di come Chris sia crudele in questa sfida, alla fine psicologica. Tra l'altro, inviterà Chef a mangiarsi un bel crabby patti, un bel panino di spondibob, se non è proprio quello, insieme a due patatine, e anche lì, l'ennesimo odore nauseabondo, quasi, per i concorrenti, che se ne volessero solo assaggiare uno, dovrebbero cadere, e quindi perderebbero la sfida. E questa è la situazione, i concorrenti sono molto provati, il tempo passa, dovrebbero essere già passati in questo momento 4-6 ore, è una sfida psicologica, per quanto anche fisica, ma alla fine essere tentati, forse anche peggio, che pensare di essere su un palo. Quindi tutti i vari concorrenti sono provati, a tal punto che, vedete i capelli, è come se prendessero una loro forma, sudano, cominciano a venire qualche ruga sul viso, dalla stanchezza, è una sfida veramente complessa, per quanto sulla carta molto semplice, perlomeno fino a che nessuno cade, perché alla fine i concorrenti arriveranno a circa 12 ore, perlomeno l'ultimo, che poi vedremo chi è. E qua Priglia e Millie, invece, cercano di affrontare un discorso, che mai hanno fatto. Priglia, presa un po' anche dall'insolazione, che comincia ad avere, quindi perde un po' di lucidità, anche perché non beve prima, era molto più affaticata, più stanca a priori di Millie, non che Millie non lo sia, ma Priglia sicuramente di più, cercano di affrontare questo discorso, su chi sia effettivamente Millie, perché Priglia la conosciamo, Millie conosce Priglia, ma viceversa non tanto, e in effetti neanche io. Quello che so io di Millie, lo sa anche Priglia, ovvero che lei scrive un taccuino, continua questa ricerca, per la sua tesi finale, è sicuramente socievole, è simpatica, ha un'ottima spalla, la definisce amica, ma poi di altro, Priglia chiede a lei, ma tu cosa fai nella vita, qual è il tuo scopo, perché sei qui, e Millie quasi non risponde, oppure non vuole rispondere, in realtà, in un modo lo fa, semplicemente dicendo che lei studia, o legge molto a casa, ma è poca roba, affrontare un discorso del genere, tra l'altro, mentre si è su un palo, da circa sei ore, non è manco facile. In tutto ciò, il nostro amico Bowie, da lontano, scorge un punto viola, che cos'è? È il famoso telefono, che MK utilizzò, rubò nel primo episodio, a Giulia, per guardare tutti i vari confessionali, che vennero registrati, a questo punto Bowie si dice, che faccio? Mi butto, mi lancio, per prendere il telefono, e tenermelo anche potenzialmente, per un'altra sfida, oppure, punto all'immunità, tenuto conto, che essa è molto difficile, perché lui stesso, sa di essere un pochino in deficit, si sente molto stanco, forse più degli altri, poi alla fine, lui è un mingerlino, insomma, non ha mai fatto un grande allenamento, per cui cosa fa? Si dice, vabbè, mi butto, solo che mi butto in grande stile, faccio finta di buttarmi, quindi starnutendo, come tra l'altro suggerisce Giulia, perché altrimenti, sarebbe stato troppo visibile, far vedere agli altri, proprio che lui si butti, per cercare che cosa, per quale motivo, per il telefono, facendo così, invece si lancia, in maniera indiretta per gli altri, come se fosse non da lui voluta, per prendere il telefono, e dal telefono, potrà vedere certe cose, che finalmente, lui sa, e che tutti gli altri, non possono ancora sapere, sempre Chris, bastardo, con la B maiuscola, continua a tentare i nostri ragazzi, come? Proponendo ben 10 mila dollari, perché si sarebbe buttato, e quindi, avrebbe perso la sfida, ma avrebbe guadagnato, i soldi in questione, tanto che comunque, alla fine, nessuno cade, ma Chef, come Chris fece, per i piatti lanciati, buttò anche i suoi soldi, va bene, una piccola gag, ma passiamo a Bowie, perché lui, è un protagonista celato, di questo episodio, nessuno lo sa, al telefono, e da quello, scopre tante cose, come per esempio, tutti gli arcani, di Millie, segreti su Emma, di Giulia, forse l'unica, che si salva da ciò, è Priya, a cui effettivamente, c'è poco da sapere, Priya è una ragazza seria, diligente, non farebbe mai, o direbbe mai, cose particolarmente volgari, oppure, parlerebbe mai alle spalle, quelli che ho nominato, qualche segreto lo hanno, ma è Priya, in questo momento, a essere in forte difficoltà, lei assetata, affaticata, stanca, tenne per tutta la discesa, Millie sulle spalle, non beve, a pensarsi sulla schiena, adesso, dopo otto ore, mi pare, ancora lì, comincia ad avere le allucinazioni, ed è piuttosto evidente, anche Chef lo dice, è una causa naturale, umana, che nel momento in cui, non bevi per un po', sei molto stanco, non puoi riposare, non puoi mangiare, non puoi fare nulla che ti aggrada, comincia a vedere cose che non ci sono, come per esempio, un bicchiere che fluttua, io in questo momento, ho avuto paura per lei, ecco, se dovessi medesimarmi nel cartone, non sarei stato come Chef e Chris, a guardare, perché, è una cosa piuttosto seria, in ogni caso, sempre Bowie, ecco, mi viene in mente che anche con Raj, ha la possibilità di poter vedere qualcosa, quindi è come se vedesse anche i confessionali, di quelli del passato, quelli che sono già usciti, questo ulteriore confronto con Raj a distanza, fa capire a Bowie che è l'amore per lui, definitivo, sicuramente quando usciranno, ormai 100-100%, continueranno la loro avventura sentimentale, non parliamo di Emma, che in realtà, nel confessionale, non fa altro che ballare, e questo può essere un qualcosa per Bowie, come ricatto, come ripicca, qualora dovesse servire in una sfida, sono passate ben 12 ore, Millie è ancora lì tranquilla, bisogna essere seri, in realtà, Millie questa sfida l'ha vissuta bene, perché si, ha sudato come gli altri, ha avuto difficoltà, ma poi si è abbastanza ripresa, tenuto conto che anche lei si allenò, non quanto Priglia, ma per il potenziale massimo, penso che anche Millie, ha avuto una grande stanchezza in corpo, Priglia cade, e rimangono loro quattro, cade per allucinazioni, non ce la fa più, rimane Chase, Millie, Giulia, Emma, ma attenzione, perché il protagonista, deve ancora arrivare di questa avventura, ed eccolo qui, è il mitico Chase, che oltre tutto il tempo, a rompere le palle a Emma, e tra l'altro in maniera disgustosa, superficiale, non capendo i suoi errori, di continuo, anche Bowie mi pare lo dice, ma come fa Chase ad essere così stupido, non capire che basterebbe una parola, o basterebbero una serie di scuse, alla fine, per riallacciare i rapporti, basterebbe essere meno scemo, ma probabilmente Chase, questo non riuscirà mai a farlo, a tal punto comunque, che non è solo per questo, che quindi Emma si arrabbia particolarmente, ma Chase fa qualcosa di sicuramente imprevedibile, al quarto tentativo letterale, quindi che tenta, i concorrenti, Chris propone una pizza, una pizza buonissima, qualunque cosa ci fosse stata sopra, probabilmente anche sterco di gallina, a loro sarebbe andata bene, perché ormai erano talmente stanchi, che qualsiasi cosa culinaria, poteva essere gustosa, ricordiamo, non hanno fatto colazione, quindi sono reduci, di una sfida di 12 ore lì dentro, su un palo, senza aver fatto colazione, è psicologicamente, fisicamente importante, non ne può più Chase, lui tra l'altro è un fan della pizza, come dice lui, dovrebbe avere la pizza Tite, e ce l'ho anch'io, comunque l'amnesia della pizza, ecco, io quando sento della pizza, anche io, ripeto, sono il primo a fuggire, da qualsiasi cosa, io stia facendo, ne mangio una, anche di più, ma fa qualcosa, ripeto, di imprevedibile, perché arriva a buttare giù Millie, e io me l'aspettavo che potesse cadere, ma era strano che non fosse ancora accaduto, butta giù Millie, quindi come indicare che si sarebbe potuto fare, ma lui è l'unico ad averlo fatto, e non solo Millie, è come se si spostasse, per i vari pali, per inseguire l'odore, arriverà a buttare giù anche Giulia, a cui in realtà, quest'ultima si aggrappa al palo, e spera di non cadere, ma nel momento in cui, magari Emma si aspetta, con l'ultimo volo, di arrivare in braccio a lei, c'è una piccola scena, in cui rimane illuminata, spera realmente, che Chase gli arrivi addosso, tra l'altro Chase urla, ti amo, ma ti amo, riferito a chi? Alla pizza, e quindi tutto ciò, deriva che Emma, vince la sfida, Chase mangia la sua pizza, Emma in realtà, l'aveva già detto, in un confezionale precedente, che Chase è un fan della pizza, non può resistere a questo odore, ed effettivamente aveva ragione, in tutto ciò, prima della grande eliminazione, Bowie scopre, secondo me, il segreto più importante, ovvero quello di Millie, Millie in confessionale si sfoga, semplicemente, ne ha da dire un po' su tutti, persino su Priglia, non è una villain, però semplicemente, è un antagonista nascosta, lei è egoista, è una persona, che guarda se stessa, se ne approfitta degli altri, forse non lo fa con malizia, ma comunque lo fa, e quindi agli occhi di tutti, e di chi poi scoprirà questo mistero, non sarà sicuramente una bella impressione, e ovviamente prende anche il taccuino, perché Millie nel confessionale, probabilmente disse, dove lo teneva, ed era sotto il letto, quindi Bowie ha telefono, e taccuino, ha in mano l'intero gioco, per il momento, ha i concorrenti in scacco, e dunque arriviamo a fatidico momento, allora, tolto Emma, che ovviamente è rimasta immune, ma anche lei ha avuto delle sue colpe, ha avuto delle problematiche con Chase, tutti gli altri sono eliminabili, Giulia in realtà, paradossalmente, anche Chef cerca di trovare una soluzione, cerca di trovare un commento, alla sua prestazione, ma in realtà non fece nulla di che, anzi Giulia, forse in questo episodio, è quello in cui meno patì la sfida, e in cui più si nascose, il che è meglio, per lei, perlomeno, non ha dovuto essere immune, per patire l'eliminazione, infatti, spoiler, non verrà votata, neanche da Bowie, per dire. Bowie stesso si lanciò in mare, apparentemente senza motivo, ma probabilmente è la mossa migliore che potesse fare. Priglia ebbe le allucinazioni, e quindi non riuscì a gestirsi, Millie comunque non ha saputo, forse gestire al meglio, la relazione con Priglia, anche durante la sfida, che avrebbe potuto aiutarla in un certo modo, e Chase ha fatto la cazzata, che più non poteva fare, ma che allo stesso tempo, è l'unica mossa geniale, che permetteva di sbloccarsi alla sfida, perché probabilmente, Millie, Giulia, Emma, forse Chase sarebbe prima o per caduto, ma loro tre, sarebbero rimaste ancora qualche ora. E insomma, marshmallow per Bowie, per Giulia, per Priglia, tra Millie e Chase, a uscire è Chase. Sono sincero, questa eliminazione è corretta, Chase io non l'ho mai sopportato, ma il modo in cui esce, secondo me, è piuttosto geniale. Mi sarei aspettato un'eliminazione molto più semplice, quindi banalmente in cui lui commetteva degli errori, qui lo ha commesso, ma a fin di bene, la sfida finisce grazie a questo suo lampo di genio, perché altrimenti andava avanti, e chissà che avrebbe vinto, magari avrebbe vinto Millie, e quindi poi di conseguenza, poteva uscire anche Giulia, o Emma, quindi sicuramente Chase ha sparigliato un po' le carte nel tavolo. Ma la cosa che è meno sopportato, è questa. Ecco, se Chase è scemo, Emma si conferma più scema di lui. Decisamente. Nel momento in cui Chase sta per uscire, dopo tutte le carognate, tutte le idiozie dette, fatte, ancora non gli ha chiesto scusa, tutto quello che accadde dal primo episodio, in realtà pure prima di esso, fino ad oggi, è come se Emma l'avesse cancellato, rimosso. Io non capisco perché Emma provi così tanto bene in Chase, in realtà posso capirlo, sicuramente la prima sbandata, i primi amori, i primi sentimenti, i grandi ricordi, ma personaggio che pensavo fosse molto più gelido, Emma, e invece si risulta essere un dolcetto. Durante gli ultimi episodi aveva avuto un riavvicinamento, ma secondo me nel momento in cui, con l'episodio culinario, Emma capisce che Chase, a lei, mai chiese scusa davvero, per quanto accaduto prima del reality, io lì avrei chiuso ogni rapporto. Però, sarà vero amore, non lo so, in ogni caso, Chase non chiese mai scusa, si divertì, mangiò la pizza, rompette le palle, anzi ruppe, scusate le palle, tutto il tempo, a Emma e ai concorrenti, per me ha vissuto una bella esperienza, dal suo punto di vista. Idiota per gli altri, ma per lui molto buona. E se ne va con un pezzo di pizza, addirittura una pizza regalata, ma l'artiglio poi gliela farà cadere. Che dire, un episodio che secondo me, fino a metà, rischiava di essere il più brutto, ma poi riuscì a risollevarsi, grazie a questa mossa, a questo colpo di scena imprevedibile di Chase. A questo punto sono rimasti in cinque, io posso prevedere che ormai la finale a tre è quasi scritta, con Priglia, Bowie, Giulia. Millie ormai è la candidata a essere prima o poi eliminata, e penso anche Emma senza Chase arriverà a chiudersi, perché a parte con Bowie, che comunque parla sempre meno, non so con chi altro può avere alleanze, con Giulia dubito, con Priglia e Millie già ci provò, ma non andò molto bene. Insomma, vedremo come andrà a finire, io a questo momento posso dire sicuramente, vincitore o Bowie o Priglia, perché sono quelle che hanno le migliori carte in tavola, poi magari può vincere anche Emma, può capitare che adesso, si rivela essere la vera Emma, senza Chase in mezzo alle balle, l'unica che non vorrei che vincesse è Millie, ma è scontato che esca, e Giulia in quanto antagonista, penso che venga fatta fuori. Detto ciò, alla prossima, ciao ciao.